Ho più volte parlato di quella che ritengo vera e falsa ipocrisia in materia di fede. Se noi diciamo che è giusto fare qualcosa, anche se non siamo all'altezza degli stessi principi che portiamo come esempio, non è veramente ipocrisia, è debolezza, è fragilità, è essere peccatori. Se siamo consapevoli della realtà del peccato originale, siamo consci di come siamo inclini a fare errori. Questo non può sorprenderci. Eppure questa storia dei cattolici che predicano bene e razzolano male viene portata sempre ad esempio per trovare qualcosa su cui sparlare. Lo storico Giordano Bruno Guerri nel suo libro Gli italiani sotto la chiesa ad esempio dice Perfetto esempio di doppiezza era l'atteggiamento formalmente pio di molti signori che tra un crimine e l'altro andavano ogni giorno a messa, costruivano chiese, facevano pellegrinaggi e opere di bene. Ora, Giordano Bruno Guerri si riferisce a quello che noi definiremmo tardo medioevo, ma il concetto è stato spesso espresso anche in epoca contemporanea. Certo, sarebbe bene essere all'altezza di quello che la fede ci chiede, ma pur se sbagliamo, questo non ci esime dall'indicare agli altri quello che è giusto. Se quei signori compivano atti criminali eppur facevano pellegrinaggi, opere di bene e andavano ogni giorno a messa, non c'è contraddizione. Forse espiavano con queste opere il male che si trovavano a compiere. Poi è sempre complicato giudicare con la nostra mentalità atti compiuti in un contesto storico completamente diverso. Sarebbe stata, a mia opinione, vera ipocrisia se i signori in questione avessero portato se stessi come modello di virtù cristiana. In quel caso ci sarebbe tirare fuori l'accusa di ipocrisia. Noi spesso non siamo quello che vorremmo essere, eppure ci sforziamo di fare del nostro meglio per adeguarci alle esigenze morali a cui facciamo riferimento. Se cadiamo basta rendersene conto ed essere sempre pronti a rialzarsi.